poco distante dalla stazione centrale di amsterdam si nota subito la miriade di battelli che portano ogni giorno migliaia di persone in giro per i canali della città un ottimo modo per passare un'ora della vacanza ad amsterdam osservando la città dall'acqua un ottimo modo per i canali della città 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 un ottimo modo per i canali un ottimo modo per i canali un ottimo modo per i canali